Gesù intende dare una svolta radicale al binomio vita-fede, lo ha detto Don Leonardo Pinnelli nel corso della Messa celebrata dal Santuario del Santissimo Salvatore, trasmessa da Teledeone e tradotta nella lingua dei segni. Sentite. Dio scende e vuole incontrare l'uomo. Dio si fa uomo per incontrare gli uomini, per camminare con gli uomini. Gesù si reca al Giordano per cominciare una strada che lo condurrà sempre fuori dai perimetri di una fede confezionata, inquadrata, in schemi, oserei dire, mosaici legati alla legge. E per mettersi in relazione con tutti, Giovanni Battista compreso, e Gesù vuole dare una svolta radicale al binomio vita-fede. Bisognava cominciare un percorso di vita che non coincidesse più con lo strapotere territoriale di un Dio possessivo, bensì indicasse a tutti, oltre ogni confine, la possibilità di poter incontrare un Dio che non solo fosse conosciuto come amico, ma che mostrasse le sue caratteristiche di padre e di madre.